ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale oggi facciamo il canto quarto dell'orlando furioso di ludovico ariosto in particolar modo la parafrasi adesso vi elenco i punti come sempre nei quali ho suddiviso il canto al punto 1 c'è alla volta del castello incantato quando praticamente brunello e bradamante si mettono in cammino per arrivare al castello di atlante del mago atlante poi bradamante prende l'anello a brunello c'è il duello tra bradamante ed il mago atlante c'è la cattura del mago appunto di atlante quindi ci sono le spiegazioni del mago su perché ha fatto questo castello chi c'è dentro insomma tutte queste cose poi si scioglie l'incantesimo del castello ruggero sull'ippogrifo rinaldo in scozia e poi inizia l'episodio di ginevra anche se si trova alla fine di questo canto però diciamo l'ho messo ora e quindi giustifichiamo un po il tutto dell'episodio di ginevra si occupano quindi guardiamo bene l'ultima parte del quarto canto quindi questo canto qui poi tutto il quinto ed una porzione del sesto quindi è un episodio bello lungo addirittura ci sarà tutto un canto che è il quinto tutto occupato da questo episodio è una storia del tutto avulsa appunto dal resto dell'opera d'altro canto nell'epica cavalleresca sappiamo come si potessero introdurre episodi differenti da tutto il resto che avessero solamente un piccolo legame con la trama principale quindi da qui no capiamo che era una cosa che si faceva quindi in questo caso l'unico punto di contatto è rappresentato da rinaldo che in scozia è alla ricerca di inusuali avventure cioè praticamente questo qua era andato in scozia perché mandato da carlo magno a cercare alleanze era diciamo anche un po contrariato perché lui in realtà era partito per cercare angelica infatti mentre stava duellando con sacripante vi ricordate un paggio arriva un valletto via a dividerli però questo era un incantesimo gli aveva detto che orlando si era portata via angelica per cui lui stava rincorrendo angelica fino a parigi poi arriva da parigi invece carlo magno lo spedisce subito in inghilterra quindi in scozia e qui ricomincia il caccio no comincia quando c'è l'episodio di ginevra sembra che rinaldo in scozia è alla ricerca ecco di inusuali avventure cioè deve andare a fare una cosa ne stava facendo un'altra però comunque adesso è alla ricerca di inusuali avventure quindi va bene e si imbatterà in questa avventura di ginevra quindi nei poemi cavallereschi inoltre si trovano molte storie di fanciulle innocenti calunniate da qualche traditore che per qualche interesse personale cercava di togliere loro la buona reputazione poi anche la vita quindi anche l'argomento non è del tutto nuovo quindi gli toglieva la buona reputazione allora doveva arrivare ecco in un secondo momento il cavaliere di turno che ne metteva in risalto la purezza e l'innocenza così che la ragazza veniva liberata recuperando la sua buona reputazione mentre l'accusatore veniva ucciso va bene ma di questo ci occuperemo alla fine del canto adesso vediamo un po questi due no alla volta del castello incantato e il canto si apre con le solite considerazioni di carattere generale di ariosto quindi adesso qui fa una diciamo delle considerazioni sulla menzogna sulle bugie cose così quindi dice che sebbene mentire nella maggior parte dei casi venga biasimato e sia indizio di una mente malvagia ci sono molte situazioni in cui se ne possono trarre evidenti vantaggi ed abbia evitato morti danni e critiche perché non abbiamo sempre a che fare con gente amica in questa vita mortale molto più buia che serena piena di invidia ok quindi dice che la bugia è comunque una cosa brutta una cosa malvagia appunto però ci sono delle occasioni in cui attraverso le bugie le menzogne si evitano diciamo conseguenze peggiori perché in questa vita non ci sono tutte persone buone quindi se dopo molti tentativi e molta fatica si riesce a trovare una persona che possa essere un vero amico a cui tu possa rivelare i tuoi veri pensieri senza alcun sospetto cosa avrebbe dovuto fare bradamante con brunello che non era né puro né sincero ma talmente falso e finto come la fada glielo aveva descritto si ingegnò anche la a mentire perché con lui padre della menzogna era necessario fare così e come io dissi in precedenza lei gli teneva ad occhio le mani che erano avide da ladro comunque gliele guarda queste mani sia perché era ladro sia per tenere sotto controllo l'anello ed ecco che giunse alle loro orecchie un gran frastuono la donna disse o madre gloriosa ore del cielo cosa sarà questo e si regò velocemente verso la direzione da dove proveniva il rumore e vide l'oste con tutta la sua servitù persone alla finestra in strada con gli occhi rivolti verso in alto verso il cielo come se ci fosse un eclissi o una cometa bradamante vide una cosa incredibile qui non sarebbe stato possibile credere facilmente vide passare un grande cavallo alato con in groppa un cavaliere armato quindi quello che le aveva detto pinabello era praticamente la verità ma aveva avuto la conferma anche da dalla fada dalla fada melissa anche da merlino quindi le ali erano grandi e variopinte e al centro sedeva un cavaliere con un'armatura limpida e luminosa che si dirigeva verso ovest si abbassò e scomparve tra le montagne e come disse l'oste e diceva la verità si trattava di un mago che spesso faceva quel percorso a volte più vicino altre più lontano volando talvolta arrivava fino alle stelle esagerazione però l'ippogrifo fa questo altre volte quasi radente e portava con sé tutte le belle donne che trovava in quei paesini lì dice contrade mi sembra una cosa così adesso non mi ricordo bene comunque io ho messo paesini paesi dai tanto che le povere fanciulle davvero belle oppure solamente credevano di esserlo visto che voleva rapirle proprio tutte non uscivano finché splendeva la luce del sole qualsiasi fanciulla insomma trovava sia bella che meno bella la rapiva la prendeva questo questo mago questo cavaliere in groppa al cavallo alato egli possiede un castello sui pirenei raccontava l'oste costruito con degli incantesimi tutto d'acciaio così luminoso e bello che non c'è al mondo nessun'altra cosa così straordinaria molti cavalieri sono arrivati fin lassù e nessuno si vanta di essere tornato così che io penso signore e temo fortemente che o si siano persi o siano stati uccisi anche l'oste vedete si rivolge a bradamante chiamandola signore perché anche egli crede che bradamante sia un cavaliere la donna ovvero bradamante che aveva ascoltato tutto se ne compiaceva pensando già di intraprendere come avrebbe sicuramente fatto l'impresa con l'aiuto dell'anello fino a distruggere il castello e a sconfiggere il mago e disse all'oste trovami qualcuno più esperto di me della via per arrivare lassù perché io non posso resistere tanto cioè ho fretta di andare ad incontrare no il mago infatti vedete ho intenzione di combattere contro il mago non ti mancherà una guida ecco qua brunello che si propone no sarò io a venire con te ho con me la mappa e anche altre cose che ti renderanno gradita la mia presenza intendeva l'anello ma non lo disse né chiari oltre per non doverne render conto lei disse la tua compagnia mi sarà gradita volendo dire che l'anello poi sarebbe diventato suo quindi tutti e due si riferiscono all'anello in realtà senza dirlo disse al saraceno quello che riteneva utile e tacque su ciò che avrebbe potuto nuocerle l'oste aveva un destriero che le piaceva buono da battaglia come da trasporto lo comperò e partì come fu l'alba del giorno seguente prese un sentiero con brunello che ora stava davanti ora dietro o la seguiva oppure andava avanti no e quindi le diceva la via da prendere di montagna in montagna da un bosco all'altro giunsero dove i pirenei possono far vedere se il cielo è sereno sia la francia che la spagna e le loro due spiagge una sull'atlantico e l'altra sul mediterraneo come gli appennini mostrano il mare adiriatico e tirreno una volta che si arrivi allo snodo dal quale si scende all'eremo di camaldoli quindi falterona da qui attraverso un sentiero ripido e scosceso si scendeva in una profonda quindi mette un elemento di realtà realistico ovvero italiano questi appennini no dove c'è appunto l'erimo di camaldoli e da su si può vedere sia il mare adriatico che tirreno quindi mette come diceva appunto un riferimento specifico in mezzo si ergeva una montagna che aveva la cima tutta contornata da un bel muro d'acciaio e si alzava tanto verso il cielo che lasciava tutto ciò che aveva intorno ad un livello più basso quindi in mezzo a questa valle profonda c'è un'altura qui dice una montagna dove sopra a questa montagna c'è il castello chi non vola pensa di non poterci arrivare in quanto ogni sforzo risulterebbe inutile brunello disse ecco dove il mago tiene prigionieri dame e cavalieri quindi ecco praticamente il castello e ce lo descrive esso era come tagliato su quattro lati tale che pareva perfettamente perpendicolare al suolo non c'erano da nessun lato né scale o sentieri che potessero far arrivare fino in cima e sembrava palese che questo posto fosse il nido latana di un animale alato qui bradamante decise che fosse arrivato il momento di uccidere brunello e di prendergli l'anello questo posto è inespugnabile non si può arrivare se non volando e praticamente vedete è come tagliato su quattro lati perché usa questo termine della sinopia che praticamente la terra rossa che i muratori usavano per tirare la riga del filo a piombo cioè per far capire proprio come questo castello fosse a strapiombo su su questa vallata insomma sopra questa montagna che si ergeva al centro di questa vallata quindi non ci sono sentieri non ci sono scale non c'è nulla per arrivare fino in cima quindi lì nessuno può arrivare e da lì nessuno può fuggire bradamante prende l'anello a brunello male sembrò un'azione vigliacca uccidere un nemico privo di armi e di natura tanto vile considerando che avrebbe potuto prendere l'anello senza ucciderlo brunello non sospettava nulla cosicché lei lo prese e lo legò così stretto a un abete dalla chioma alta ma prima gli prese l'anello dal dito allora bradamante disobbedisce alla fata melissa la quale le aveva specificamente detto uccidilo non avere pietà e prendi l'anello lei invece da buon cavaliere cosa fa decide di legarlo e basta praticamente in questo poema nessuno dà mai retta alla fata melissa se non in pochissime situazioni chi dice vabbè questa qua esagerato chi dice ma sarà perché quello e quell'altro insomma lei predice le cose ai personaggi gliele suggerisce però poi alla fine ognuno fa come vuole e si creano da soli dei problemi ne lo volle sciogliere io aggiungo per fortuna a causa dei suoi pianti e lamentele scese lentamente dalla montagna fino a giungere nella pianura sottostante la torre cioè il castello e suonò il corno affinché il mago si presentasse a duello e dopo aver suonato lo chiamò in campo con grida minacciose e lo sfidò a combattere quindi come un cavaliere abbiamo visto l'altra volta suonano il corno o per chiedere aiuto o per sfidare i nemici a duello quindi in battaglia ecco la battaglia il duello quindi tra bradamante e il mago non passò molto tempo che il mago udendo il suono e le grida uscisse fuori dal portone l'ippogrifo lo portò in cielo contro costei che credeva essere un fiero cavaliere la donna all'inizio era confortata dal fatto di vedere che lui non avrebbe potuto arregarle troppi danni non aveva una lancia né una spada né un bastone ferrato che avrebbero potuto oltrepassarle o romperle la corazza quindi quindi atlante sembra disarmato praticamente va lì in groppa all'ippogrifo bello bello senza armi quindi il libro ad amante dice beh non sarà troppo difficile nella mano sinistra aveva solamente lo scudo coperto con un drappo di seta rossa e sappiamo che è uno scudo incantato nella mano destra un libro da dove leggendo faceva scaturire i suoi incantesimi che a volte sembrava sferrare un colpo di lancia che aveva fatto temere a più di un cavaliere di essere stato colpito sembrava talvolta combattesse con la mazza chiodata o con la spada nonostante rimanesse lontano e non sferrasse alcun colpo quindi ok le armi non le porta però attraverso l'incantesimo gli incantesimi sembra che sferri un colpo di lancia combatta con la mazza chiodata oppure con la spada quindi in realtà poi queste cose apparivano queste armi no e si facevano anche sentire perché i cavalieri comunque venivano catturati quindi non era tutta un'illusione era l'incantesimo ok ma che comunque lo faceva prevalere sugli altri e poi anche lo scudo il destriero alato non era un incantesimo ma creatura vera nata da una giumenta e da un grifone le ali e le piume le zampe anteriori la testa del becco le aveva simili al padre tutte le altre parti del corpo derivavano dalla madre e si chiamava ippogrifo i quali nascono nei monti urali molto più in là dei mari ghiacciati quindi o ok ecco presentato l'ippogrifo ufficialmente perché cavallo alato quello quell'altro poi alla fine ce lo dice qui ariosto si chiama ippogrifo non è frutto di un incantesimo non è un'illusione ma è una creatura vera vedete è un incrocio tra una giumenta quindi la femmina del cavallo e il grifone quindi a piume zampe anteriori ali testa e becco come il grifone invece il resto è quello di un cavallo e si trovano appunto in quei posti dei monti urali la più in là dei mari ghiacciati e va bene questi questi animali lo attirò in quel posto con la forza di un incantesimo e nel momento in cui le ebbe in suo possesso non si dedicò ad altro e con impegno e fatica lo addestrò tanto che in un mese riuscì a cavalcarlo con tanto di sella e briglia in questo modo lo faceva volteggiare in terra e nel cielo a proprio piacere da ogni parte l'ippogrifo non era il risultato di un incantesimo come tutto il resto ma era vero e reale quindi lo ribadisce ancora per dire guarda che l'ippogrifo esiste veramente non è un incantesimo ogni altra cosa del mago era frutto di invenzione ad esempio faceva apparire il giallo come il rosso ma con la donna non ci riuscì in quanto lei grazie all'anello non poteva essere ingannata bradamante tuttavia scagliava molti colpi a vuoto fingeva di combattere spingendo il cavallo qua e là affaticandosi non poco come era stata ben istruita prima di arrivare lì quindi da melissa qui obbedisce bradamante adesso vediamo quando bradamante decide di utilizzare l'anello e poiché si era esercitata molto in quella finzione decise di smontare e continuare a piedi per poter portare a termine ciò che aveva saputo dalla fata il mago stava per fare l'ultimo incantesimo ovvero quello dello scudo poiché non pensava al fatto che la donna potesse evitarlo scoprì lo scudo e credette di poterla accecare col bagliore incantato avrebbe potuto scoprire lo scudo subito all'inizio senza duellare coi cavalieri ma gli piaceva assistere a qualche bel combattimento con l'asta e con la spada come fa il gatto furbo che alcune volte si diverte a giocherellare col topo e nel momento in cui si stanca gli dà il morso letale quindi dice in realtà atlante anche con gli altri senza fare tutta questa pantomima del duello eccetera avrebbe potuto mostrare questo scudo direttamente e soggiocarli mentre invece ecco che fa come il gatto col topo ci giocherella perché gli piace questo gioco del combattimento e poi quando invece stanco non gli va più vedete gli dà il morso letale il gatto al topo e che faceva invece lui sfoderava questo scudo voglio dire che nelle precedenti battaglie il mago era stato come il gatto e i cavalieri topi ma non fu così stavolta perché bradamante si era fatto avanti per sfidarlo con l'anello stava attenta ad ogni cosa che potesse accadere gli si fece incontro in modo che il mago non potesse far nulla e come vide che aprì lo scudo chiuse gli occhi e si lasciò cadere a terra non fu come gli altri ovvero che lo scudo la danneggiasse ma finse in modo che il mago appunto vedete scendesse da cavallo per andarle incontro e questo suo stratagemma ebbe successo perché appena le cadde a terra l'ippogrifo atterrò con ampie volute il mago lasciò lo scudo che già aveva riposto sotto al drappo sull'ippogrifo e si diresse a piedi verso la donna che lo stava aspettando come un lupo che ben nascosto attende nel bosco il capriolo subito senza aspettare oltre bradamante si alzò in piedi e l'afferrò non appena lo ebbe vicino il mago aveva lasciato a terra il libro degli incantesimi e correva con una catena che portava guisa di cintura con cui voleva legare la donna come già precedentemente aveva fatto con gli altri cavalieri bradamante lo atterrò subito ed io non lo biasimo se non ebbe l'ardire di difendersi in quanto c'era troppa differenza tra il vecchio mago e lei tanto giovane e forte quindi atlante viene catturato pensando di decapitarlo bradamante alzò veloce la mano vittoriosa ma arrestò il colpo non appena lo vide in volto quasi vergognandosi di una vendetta così vigliacca vide in colui che aveva messo alle strette solamente un vecchio degno di rispetto per il suo viso rugoso e dalla barba bianca dell'età di circa 70 anni o quasi uccidimi dunque giovane diceva il vecchio pieno di rabbia di dispiacere ma bradamante era arresti a farlo in quanto desiderava lasciarlo in vita la donna desiderava sapere chi fosse il mago perché avesse costruito in quel posto un castello e perché regasse danno a tutti quindi bradamante vuole scoprire la verità e quindi lo lascia vivere e vediamo queste spiegazioni quindi del mago o povero me non edificai la fortezza su quell'altura con intenzioni malvagie disse piangendo il vecchio mago ne rubo per avidità ma all'amore ha mosso le mie azioni solamente per impedire la morte di un nobile cavaliere che come predice il cielo a tradimento tra poco tempo dovrà morire il sole tra il nostro ed il polo australe non ha mai visto un giovane così bello e vigoroso si chiama ruggero e fu cresciuto da me che mi chiamo atlante fin da piccolo no che si chiama atlante fin da piccolo che praticamente ha cresciuto ruggero fin da piccolo però l'ordine della frase è questa e quindi io l'ho lasciato no il desiderio d'onore ed il suo crudele destino l'hanno condotto in francia al seguito del re agramante ed io che l'amai sempre come un figlio sto cercando di allontanarlo dalla francia e dal pericolo edificai la fortezza solamente per tenervi ruggero al sicuro e lo catturai come io speravo fossi catturato oggi anche tu e le dame i cavalieri ed altre nobili persone che tu vedrai li ho presi successivamente affinché avendo compagnia non desiderasse di fuggire volontariamente affinché non mi chiedano di fuggire dall'assù mi tocca accontentarli in tutto che in quella fortezza c'è tutto ciò che si possa avere in ogni angolo della terra suoni canti vestiti giochi cibi la bocca può chiedere quanto più il cuore può desiderare avendo ben seminato stavo raccogliendo buoni frutti quando sei giunto tu a rovinare tutto su via se non hai un cuore meno bello del tuo volto non rifiutare una mia equa proposta ecco vediamo che cosa propone il mago a bradamante prendi lo scudo che io ti regalo e l'ippogrifo che vola così velocemente e non preoccuparti oltre del castello oppure libera due o tre amici ma lascia tutti gli altri più non ti chiedo se non che mi lasci il mio ruggero però il mago non è nella posizione di scegliere perché poi il duello l'ha perso e quindi vediamo comunque e se sei intenzionato a portarmelo via su via uccidimi prima di riportarlo in francia bradamante rispose voglio liberare lui tu chiacchiera pure e non offrirmi nello scudo nel destriera lato in quanto già mi appartengono praticamente dice guarda ho vinto io il duello quindi è inutile che mi offri lo scudo l'ippogrifo tanto sono miei dice io sono un cavaliere in poche parole quindi ti ho sconfitto tutto quello che è tuo adesso è mio e quindi è inutile che tu stai a barattare lo scudo l'ippogrifo con ruggero voglio ruggero lo scudo l'ippogrifo liberare tutte tutte le persone neanche se tu avessi il diritto di decidere se darmeli o no mi sembrerebbe che lo scambio non sia equo tu affermi che stai proteggendo ruggero per impedire l'influsso maligno dei suoi astri non puoi sapere ciò che il destino è in serbo per lui visto che se non indovini la tua di sorte che ti è così vicina come fai a prevedere quella di altri che dovrà ancora venire ecco qua gli antichi credevano che le stelle avessero relazione col destino umano e che nascere sotto una costellazione piuttosto che un'altra portasse fortuna o disgrazia la falsa scienza si chiamava astrologia e bradamante non sembra credere a queste cose non scongiurare affinché io ti uccida che le tue preghiere saranno vane ma se vuoi la morte puoi procurartela da solo in quanto un animo forte può darsela da solo questa morte quant'anche tutto il resto del mondo gliela neghi ma prima che l'anima abbandoni il tuo corpo libera tutti i tuoi prigionieri così disse la donna e catturato il mago andò con lui verso il castello atlante era legato con la sua stessa catena e bradamante lo seguiva perché si fidava di lui ancora poco nonostante fosse tutto dimesso in volto non era molti passi distante e arrivarono presto ai piedi dell'altura del dirupo e ai grossi scalini da dove si saliva a spirale e salirono fino alla porta del castello quindi in realtà gli scalini ci sono e si saleno a spirale quindi si scioglie l'incantesimo del castello vediamo atlante tolse una pietra dalla soglia scolpita con figure e lettere magiche sotto vi erano dei vasi che si chiamano pignatte che emanavano sempre fumo e all'interno avevano un fuoco misterioso il mago le ruppe e ad un tratto la collina rimase deserta inospitale e selvaggia non c'era più un muro né alcuna torre nessuno dei lati come se il castello non fosse mai esistito ecco queste pentole avevano un fuoco interno e producevano i suffumici per la cui opera era innalzato il castello il mago si slegò dalla donna come fa il tordo dalla ragnatela e con lui all'improvviso scomparve il suo castello e lasciò libera tutta quella compagnia quindi anche il mago scompare scompare atlante scompare il castello e appaiono all'improvviso tutti tutti questi che aveva catturato le dame e i cavalieri si ritrovarono fuori dalle bellissime stanze nella campagna e qui è buffa la cosa perché dice e tra loro molti se ne rammaricarono perché la liberazione tolse loro un gran piacere in quanto dentro il castello questi stavano bene avevano tutto vedete bellissime stanze quindi avevano tutto quello che desideravano che potessero desiderare e quindi si ritrovano adesso nella campagna allora rioste ironizza ancora un po no e dice tanto male no dentro l'anno stavano c'erano gradasso sacripante prasildo il nobile cavaliere che venne dall'olanda con rinaldo ed eroldo una coppia di veri amici quindi prasildo ed eroldo erano questa coppia di veri amici e prasildo era il nobile cavaliere che venne dall'olanda con rinaldo alla fine la bella bradamante trovò il suo desiderato ruggero il quale dopo averla riconosciuta l'accolse con gratitudine allora vediamo quando si sono conosciuti bradamante e rodomonte stavano combattendo tra loro quando ruggero sopraggiungendo prese a combattere per lei atterrato rodomonte ruggero e bradamante stavano percorrendo un tratto di strada insieme ma essendosi bradamante tolta per un attimo l'elmo il re martasino pagano la ferì all'improvviso ruggero sdegnato la lasciò per inseguire martasino perché ruggero l'aveva amata più dei suoi occhi più del suo cuore più della propria vita dal giorno in cui lei si tolse l'elmo per lui e per questo venne ferita ecco no praticamente qui fa riferimento a quell'evento là quando praticamente stanno andando insieme lei si tolse l'elmo per farsi vedere chi è in poche parole e viene ferita sarebbe lungo raccontare come e quanto poi si cercarono per tutta la notte il giorno successivo nel bosco solitario selvaggio senza trovarsi fino a quel momento quindi si erano persi di vista ormai non si erano ritrovati più adesso che l'aveva vista e ben sapeva che era stata lei da sola a liberarlo aveva il cuore pieno di felicità e si riteneva fortunato ed appagato come nessun altro al mondo scesero dal monte ed arrivarono in quella valle dove bradamante aveva sconfitto il mago e dove trovarono l'ippogrifo che al fianco aveva lo scudo magico coperto dal drappo la donna cercò di afferrare la briglia e l'ippogrifo aspettò che gli arrivasse vicino poi aprì le ali volando via e riatterrò non lontano sulla collina lei lo seguì ed esso fece né più nemmeno la stessa cosa ovvero volò non troppo lontano come fa la cornacchia sull'arida sabbia mentre scappa dal cane andando ora da una parte ora dall'altra quindi l'ippogrifo non ha nessuna intenzione di essere preso da da bradamante ruggero gradasso sagripante tutti quei cavalieri che erano scesi insieme andarono chi su chi giù dove speravano che il cavallo alato tornasse esso dopo che in vano ebbe condotto gli altri verso le montagne più alte le vallate più umili tra quelle alture alla fine si posò vicino a ruggero e tutto ciò fu opera del vecchio mago atlante il quale ancora non smetteva di cercare di mettere in salvo ruggero per questo gli mandava incontro l'ippogrifo affinché lo potesse allontanare dall'europa ruggero lo prese pensando di poterlo portare con sé ma esso si arrestò e non volle seguirlo quindi l'ippogrifo non si fa catturare da nessuno perché ancora c'è l'influsso di atlante cioè l'ippogrifo è il compito di allontanare ruggero dall'europa ruggero sull'ippogrifo a questo punto e gli smontò da frontino così si chiamava il suo destriero vi ricordate li abbiamo detti noi i destrieri dei paladini e salì sull'ippogrifo aizzando con gli speroni il suo cuore fiero dell'ippogrifo è quello corse molto e spinse forte i piedi a terra per prendere slancio salì verso il cielo andando più veloce del falcone reale quando il cacciatore toglie il panno dagli occhi per fargli vedere la preda bradamante che vide ruggero così in alto e in pericolo restò stupefatta tanto che non tornò subito in sé quello che aveva già sentito di ganimede ovvero che fu portato all'olimpo dall'aquila di giove credette potesse accadere anche a ruggero non meno bello né nobile di ganimede stesso allora qui mette a riosto un riferimento classico l'abbiamo visto il rapimento di ganimede o comunque il racconto del rapimento di ganimede nel primo canto delle neide no qui sul canale è una delle cause dell'odio di giunone verso i troiani insieme a quelle altre che abbiamo appunto detto e ganimede chi era un giovane principe troiano praticamente molto bello nobile e bello quindi che giove ammira praticamente per la sua bellezza e decide di rapirlo di farlo quindi di rapire appunto vedete dall'aquila di giove per portarselo su nell'olimpo per poterlo ecco ammirare mentre mesce il vino alla mensa insomma degli dei in questo diciamo ruolo che prima era della figlia di giunone e di giove stesso quindi di sua figlia e di giunone toglie questa fanciulla e ci mette ganimede a mescere diciamo il vino per poterlo guardare ho visto questa sua bellezza insomma straordinaria e qui ariosto inserisce appunto questo riferimento classico per dire che bradamante crede che stia succedendo qualcosa di soprannaturale ovvero ecco un rapimento come dall'aquila di giove in realtà è vero perché l'ippogrifo è guidato ancora è influenzato ancora dall'incantesimo lo seguì con gli occhi fissi al cielo fino a poterlo ancora scorgere ma quando scomparve dalla vista lo seguì con il cuore non aveva né voleva avere pace e pianse gemette e sospirò perché ruggero era ormai scomparso e rivolse gli occhi al buon frontino quindi decide di non abbandonare praticamente il cavallo di ruggero ecco e decide di e decise di non abbandonarlo al primo arrivato ma di portarlo con sé per restituirlo a ruggero quando l'avesse incontrato di nuovo cosa che sperava l'ippogrifo si alzò nel ruggero poteva impedirlo vedeva sotto di sé ogni montagna appiattirsi talmente da non scorgere più dove fosse pianura nel rilievo quindi neanche ruggero riesce a far nulla l'ippogrifo va per conto suo arrivò talmente in alto e qui lo guardava da terra poteva scorgere solamente un piccolo punto prese la via dove il sole si trova quando nel segno del cancro cioè la via verso le indie orientali e se ne andò volando come una nave che spalmata di catrame ha il vento propizio quindi scivola bene no sull'acqua lasciamola andare che farà un lungo viaggio e torniamo ecco al paladino rinaldo quindi lasciamo andare ruggero che avrà la sua sorte vedremo eccetera in seguito adesso torniamo a rinaldo che lo avevamo lasciato in preda alla tempesta vi ricordate no in balia appunto della tempesta passarono due giorni e rinaldo spinto dal vento attraversò un lungo tratto di mare quanto a ponente e quanto a nord vento che non cessò mai di soffiare né di giorno né di notte arrivò infine in scozia dov'è la foresta della caledonia dove spesso tra i cerri centenari ombrosi si sentivano risuonare le spade quindi a caledonia era il vecchio nome della scozia la foresta è famosa perché all'interno di questa foresta ci sono leggende di gesta di cavalieri famosi insomma l'attraversarono i cavalieri erranti famosi nell'arte della guerra provenienti da tutta la bretagna dai luoghi più vicini a quelli più distanti dalla francia dalla norvegia dalla germania chi non possiede grande coraggio non si inoltri più di tanto perché invece dell'onore potrebbe trovare la morte in essa fecero grandi imprese tristano e l'ancillotto galasso artù e galvano quindi dice in questa foresta chi non ha coraggio è meglio che non si inoltri ed altri famosi cavalieri della vecchia e della nuova tavola rotonda di loro restano a dar prova monumenti e sfarzosi trofei quindi la vecchia tavola rotonda era quella del padre di artù quella nuova e quella di artù quindi si rifà anche queste no vicende diciamo della mitologia insomma nordica rinaldo riprese le sue armi e ritrovato bagliardo si fece lasciare sulla riva della foresta ombrosa comandando al nocchiero quindi al timoniere di staccarsi dalla costa e di andare ad aspettarlo a berwick che è praticamente una contea della scozia rinaldo andò per quella immensa foresta da solo e senza scudiero prendendo ora una ora un'altra strada dove pensava di poter trovare le avventure più insolite appena sa che dentro questa foresta ci sono imprese da compiere si potrebbero diciamo trovare imprese dove dimostrare il proprio valore e questo qua è cavaliere quindi dice io voglio assolutamente andare alla ricerca di avventure appunto insolite quindi il primo giorno capitò in un'abbazia che distribuiva buona parte dei suoi veri per fare onore alle dame e cavalieri che vi giungessero i monaci e l'abate accolsero molto bene rinaldo il quale chiese loro non prima di essersi rifocillato con cibi graditi al suo appetito quali avventure i cavalieri avessero trovato in quei posti dove un uomo potesse guadagnare con qualche sua azione virtù o biasimo gli risposero che vagando per quei boschi avrebbe potuto trovare molte insolite avventure ma nello stesso modo in cui i luoghi erano oscuri potevano esserlo anche i fatti tanto che il più delle volte neanche se ne veniva a conoscenza gli dissero cerca di andare dove le tue gesta non siano dimenticate affinché alla fatica al pericolo segua la fama e se ne riceva la dovuta lode e se stai cercando di dimostrare il tuo valore è pronta un'impresa che mai nessun cavaliere ha tentato né in quei giorni né precedentemente la figlia del nostro re si trova in pericolo e ha bisogno di aiuto contro un barone di nome lucarnio che sta cercando di toglierle la vita e la buona reputazione ecco qua il episodio di ginevra ecco questo lucarnio l'ha accusata davanti a suo padre forse più per odio che ha ragione di averla trovata nel mezzo della notte che faceva salire un suo amante dal balcone è stata condannata secondo le leggi del regno al rogo a meno che non si trovi un cavaliere che nel giro di un mese a partire da oggi dimostri che lui avesse mentito eccola qua la storia della fanciulla che è diffamata praticamente disonorata tutto quello che volete e che deve arriva da uno che non si sa perché praticamente vuole fare ma le sue ragioni le ha e vedremo sono in fingarde ma comunque diciamo nel suo piano malvagio c'è un'intenzione e deve arrivare ecco un cavaliere che praticamente la difenda prenda le sue difese e dice c'è un mese di tempo la dura legge di scozia ingiusta e severa dice che ogni donna di qualsiasi ceto sociale che si conceda ad un uomo non essendo sua moglie se viene accusata deve essere condannata a morte né si può evitare che la muoia a meno che non arrivi in suo soccorso un valente cavaliere che assuma la sua difesa e che sostenga che lei sia innocente quindi che non meriti la morte il re addolorato per la bella ginevra sua figlia così si chiama quindi ecco lo dice adesso chi è questa fanciulla ha fatto sapere con un bando di città in città e nei castelli che se qualcuno avesse preso le sue difese e avesse vendicato quelle calunnie a patto che fosse nato da nobile famiglia l'avrebbe avuta in sposa e avrebbe ricevuto in dote per una donna tanto meritevole un intero regno ma se entro un mese nessuno l'avesse aiutata verrà uccisa una simile impresa ti sarebbe utile perché vagando per boschi in questo modo non ti arriveranno né fama né onore ma se accetterai non ti mancheranno anzi guadagnerai il favore della più bella donna che ci sia dall'india allo stretto di gibilterra ed insieme arriveranno ricchezze ed un regno che ti faranno vivere felice per sempre ma questo a rinaldo non interessa lo sappiamo sono cavalieri non combattono né per la ricchezza né per il regno loro combattono per il valore no per l'onore e la grazia del re il cui onore che si è quasi spento sarà risvegliato da te poi tu siccome sei un cavaliere sei obbligato a vendicare un tale affronto verso costega invece è un esempio di vera pudicizia rinaldo riflette molto poi rispose qui c'è una accusa praticamente di ariosto contro la disparità dei costumi tra uomo e donna già pensate nel 500 una fanciulla deve quindi morire se ha lasciato sfogare tra le sue amorose braccia la grande passione del suo amante sia maledetto chi ha promulgato questa legge e maledetto chi la tollera senza opporsi in base alla legge può morire una donna crudele ma non può dare la vita per il suo fedele amante sia pur vero o anche falso che ginevra abbia avuto il suo amante non mi interessa qui è anche ironico l'avrei lodata molto se fosse riuscita a tenerlo segreto come per dire a me non interessa però se avesse fatto tutto quello che dicono e l'avesse mantenuto segreto io l'avrei lodata ok come per dire faccia ognuno quello che vuole ho rivolto ogni mio pensiero a difenderla datemi una persona che velocemente mi conduca dove si trova costui che l'accusa che io spero con l'aiuto di dio di salvare ginevra non voglio dire che lei non abbia fatto ciò di cui è accusata che non sapendolo potrei mentire dirò che lei non dovrebbe essere punita per un fatto simile e dirò anche che fu ingiusto e pazzo chi per primo fece queste leggi e visto che sono ingiuste bisognerebbe revocarle e farne di nuove con maggiore saggezza se uno stesso sentimento se uno stesso desiderio conduce e porta un uomo e una donna compiere l'atto amoroso che sembra al popolo ignorante cosa tanto esegrabile perché si dovrebbe punire una donna e rimproverarla per aver fatto con uno o con più d'uno ciò che un uomo fa con tante donne quante ne desideri e per questo viene anche lodato e resta impunito ok dice già ripeto nel 500 una cosa modernissima ovvero perché ci deve essere differenza tra un uomo tra l'uomo e la donna cioè perché deve essere punita lei per fare per aver fatto la stessa cosa che invece rende praticamente orgoglioso no un uomo un uomo è lodato praticamente se ne può anche vantare e una donna addirittura viene punita fino alla morte no ad onor del vero con questa legge vengono fatti torti evidenti alle donne e spero con l'aiuto di dio di dimostrare che è un gran male che ciò sia stato tollerato per tanto tempo rinaldo ebbe l'approvazione di tutti i monaci sul fatto che gli antichi si comportarono ingiustamente e furono poco cauti nel consentire una legge tanto ingiusta e agiva male il re che potendo cambiarla non lo faceva cioè addirittura fa morire sua figlia nonostante può cambiare la legge per questa legge sciocca diciamo che c'era anticamente non appena fu l'alba dopo aver fatto sellare bagliardo rinaldo prese le sue armi e da quella abbazia uno scudiero che andasse con lui perché avrebbero dovuto percorrere insieme molte leghe miglia attraverso la foresta prima di arrivare in quel luogo dove avrebbe combattuto per la donna per abbreviare il loro cammino avevano abbandonato la strada principale e stavano seguendo un sentiero quando sentirono lì vicino risuonare un forte pianto che riempiva tutto intorno la foresta l'uno spronò bagliardo e l'altro il ronzino verso la valle dalla quale proveniva quel grido e videro tra alcuni manigoldi una ragazza che da lontano appariva molto bella che piangeva ed era addolorata quanto mai non dovrebbe esserlo una fanciulla due erano vicino a lei con la spada sguainata pronti a ferirla lei stava cercando di evitare la morte pregandoli affinché si muovessero a pietà quando rinaldo sopraggiunse non appena si accorse di ciò cominciò a gridare a minacciare violentemente i manigoldi si voltarono subito non appena videro arrivare in soccorsi il cavaliere e scomparirono nella profonda vallata il paladino non si curò di inseguirli andò dalla donna cercando di capire cosa l'avessero fatto e per risparmiare tempo la fece aiutare a salire in groppa dallo scudiero per poi tornare sul loro sentiero poi cavalcando la osservò meglio e nonostante fosse spaventata a causa della paura che aveva avuto di morire sembrava aggraziata e dalle maniere gentili dopo che ebbero domandato nuovamente chi fosse stato ad averla trattata così lei iniziò a raccontare ciò che io vi dirò nel prossimo canto per oggi io vi saluto vi ringrazio e spero che sia tutto chiaro se c'è qualche errore come sempre mi raccomando nei commenti così in descrizione io posso correggere e iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace a questo video e condividetelo se potete ci vediamo con il quinto canto quindi a questo punto con la storia di ginevra